Non c'è più futuro in questo Paese, solo attraverso l'opposizione, il ribaltamento delle logiche concertative della CGL, della CIS e della UIL possono rimettere in piedi la dignità di tutti i lavoratori mettendo a centro il lavoro. Oggi in piazza contro le politiche di Renzi che continuano a gravare sui lavoratori, sui loro diritti e sui salari. Siamo in piazza tutte le categorie pubbliche e private perché questo governo sta minando alle fondamenta tutto ciò che rimane dei diritti dei lavoratori, pubblici e privati. Io sono in particolare un delegato del Comune di Milano di OSB e anche il nostro sindaco, Pisa Pia, è in linea con le politiche di Renzi. Tant'è che si è aperto uno sconto piuttosto forte nel Comune di Milano. L'altro giorno, il 22, c'è stata una grossa assemblea, tra l'altro con tutte le sigle del Presidente dei Comuni che contestavano la politica di Pisa Pia che ha attaccato frontalmente i dipendenti dei Comuni di Milano. Noi abbiamo perso dal 2011 più di 1200 posti di lavoro, ne abbiamo recuperati neanche la metà e c'è anche un attacco al salario dei dipendenti perché si sta pensando di mettere il salario accessorio, la produttività, sempre più discrezionale e soggetta a valutazione. Questo significa che i stessi soldi, pochi soldi, noi abbiamo il contratto fermo dal 2009, vengono comunque resi incerti e variabili. C'è sempre più disoccupazione, il lavoro viene sempre meno e i soliti noti ingrassano sulle spalle dei tanti. La questione non è l'articolo 18 fino a se stesso, visto che è considerato che la Fornero l'ha già cambiato due anni fa e non si capisce bene se l'abolizione dell'articolo 18 va a generare ulteriori posti di lavoro. E' una grossa buffonata perché non è così, in realtà è un processo ben preciso, l'articolo 18 rappresenta in sé l'inizio di una profonda ristitulazione degli ammortizzatori sociali che fino ad oggi hanno accompagnato i lavoratori nei momenti di crisi, togliendo questi tipi di ammortizzatori sociali, lascia di fatto con l'Aspi il lavoratore da solo, cosa che ha fatto la Fornero. Il governo Renzi sta ulteriormente intensificando questo attacco al lavoratore e davanti a questa condizione non c'è questione di mediazione, non è la questione se dire cosa noi proponiamo, il proporre non è soltanto non al licenziamento, il proporre è dire quale tipo di strategia questo paese deve sviluppare affinché si generi ricchezza e venga ridistribuita in maniera equa su tutte le persone. Se tu avessi davanti a Renzi che cosa gli diresti sulla realtà della scuola? Potrei avere una brutta reazione sulla realtà della scuola perché comunque è come se fossimo precari anche noi, veniamo assunti a tempo indeterminato ma nove mesi all'anno e gli altri mesi cosa facciamo? Andiamo a casa di Renzi a mangiare? Sono e sono sempre stati toccati i lavoratori, loro al di sopra non vengono mai toccati. Noi dobbiamo contemporaneamente lottare ma anche chiedere che cambino profondamente le cose nel movimento sindacale italiano perché i lavoratori hanno bisogno oggi di una fortissima tutela sindacale. Abbiamo altri puntamenti in arrivo. Il 14 novembre si prepara lo sciopero sociale in cui per la prima volta i lavoratori precari, le lavoratrici e i lavoratori precari cercheranno di scendere in mobilitazione. Bisogna costruire una risposta in grado di durare perché quello che abbiamo di fronte è un attacco che continuerà, che durerà perché non hanno alternative. Dietro di loro ci sono le banche, l'Europa, la signora Merkel. C'è un disegno, c'è il disegno di portare il nostro paese, il mondo del lavoro, nelle condizioni dell'Ottocento per ricostruire così i margini di profitto. Quello che è avvenuto nell'ultimo anno sono state dimissioni spontanee dei lavoratori che hanno trovato di meglio perché la qualità era molto alta della professionalità al San Raffaele e non sono stati del tutto ricambiati nel turnover e quindi chiediamo che vengano assunte più persone e che venga restituito anche lo stipendio che è stato decurtato. Era un sacrificio temporaneo, adesso nei prossimi mesi dovremo tornare al tavolo della trattativa per risicurare questo. Al San Raffaele per la cupola e studio del patron si sono spesi solo per la cupola di vetro con l'angelo in testa 2 milioni di euro se non erro. Non credi che i lavoratori pagano sempre le scelte e la speculazione di altri? Certo e anche oggi la nuova proprietà ha appena cambiato il logo per la seconda volta in due anni con il figlio di Rotelli che ha presentato a tutti il significato del logo tranne che i lavoratori e questo secondo noi è l'ennesimo schiaffo ai lavoratori che si trovano invece ancora gli stipendi deportati un sacco di soldi buttati via in carta intestata e in immagine quando invece la vera immagine del San Raffaele è stata fatta negli anni dalla professionalità di infermieri, tecnici, medici e questo deve essere il valore del marchio San Raffaele e non i colori di un simbolo che segue i capricci dell'attuale padrone. Quello che noi vogliamo è che tutto quello che viene dato dalla regione al San Raffaele si traduca in qualità dell'assistenza per i pazienti. Renzi si è presentato come l'uomo del cambiamento, cambiare verso ha detto, però l'unico verso per cui sta cambiando le cose sono fare a favore dei padroni Squinzi ha detto che ha realizzato un loro sogno, chi è Renzi? Renzi è l'espressione di una storia profonda delle classi dirigenti italiane, cioè il trasformismo. Renzi è l'espressione della sinistra che diventa di destra e che quindi fa le politiche più di destra della destra. D'altra parte questa è la caratteristica di fondo della storia di Italia, la destra pura non riesce a fare le cose che servono alla destra perché non ha sufficiente consenso, per fare questo bisogna prima occupare il terreno della sinistra e la coerenza è una destra che ha occupato il campo della sinistra per fare una politica più di destra che non si può. Il nostro è un settore in forte sviluppo, forse è l'unico settore in Italia adesso che non sta subendo la crisi e nonostante questo vogliono cercare di fare un'azione speculativa perché il costo del lavoro costi sempre meno per avere persone molto più giovani. Ci dicono che in Italia bisogna andare in pensione a 65 anni ma poi in Italia a 50 anni ti rottavano perché in Italia in questo momento essere un lavoratore che ha più di 40 anni è diventato una colpa. L'Italia è un paese che dalla sua dignità conosce l'immigrazione, sono milioni di italiani emigrati e in questi ultimi anni è ripresa l'immigrazione degli italiani per gli stessi motivi per cui scappano altre persone dall'Africa o da altri paesi, cioè la povertà, la discriminazione o la guerra. Non crede che sia strano che in questo mondo oggi i capitali, vale a dire i soldi, possono girare facilmente mentre le persone no perché sono classificate. Infatti noi siamo contro la legge Dublino che è l'accordo che è stato fatto tra i paesi dell'Unione Europea che vieta la libertà di circolazione dei rifugiati di richiedente asilo. Sappiamo già che la maggior parte dei rifugiati che vengono qua in Italia, sia a Lampidusa, sia in altri posti, in altre frontiere, non hanno intenzione di rimanere in Italia ma la maggior parte vuole andare a chiedere asilo politico altrove dove hanno famiglia, dove hanno altre persone e dove anche lo stato di rifugiato è conosciuto meglio perché in Italia la situazione che vivono i rifugiati non è una vita degna. Allora io. Allora io. Allora io. Salute! Salute! Grazie per la visione!